Direttore, direttore. No, più tardi. Bocche cucite, clima teso a Palazzo Caracciolo. Il vertice per trovare una soluzione all'emergenza rifiuti finisce in un nulla di fatto. Lo stop alla raccolta dell'umido in metà dei comuni irpini continua impossibilitata a prorogare l'ordinanza che autorizza lo stir a stoccare e trasferire la frazione organica per mancanza di autorizzazione da parte dell'ARPAC. La provincia questa mattina ha convocato i vertici di Irpini Ambiente e la Defiam di Serino, società che opera nel settore. Al tavolo anche il sindaco di Serino, Vito Pelosi. Sia il primo cittadino che l'impresa hanno nettamente declinato l'invito a trattare l'umido. Non siamo disponibili, ha detto il sindaco, non vogliamo e non ci conviene, ha fatto sapere la Defiam. Dunque si brancola nel buio. Al momento una soluzione non c'è, l'emergenza rifiuti rischia di aggravarsi. Ad Avellino il sindaco Foti ha invitato i cittadini a tenersi in casa l'umido. A questo punto non resta che testare la disponibilità di altri privati. In campo c'è anche la prefettura, dove pure si susseguono incontri e riunioni. Il tutto in un clima di tensione palpabile, tanto che a Palazzo Caracciolo i cronisti vengono tenuti a debita distanza. Al termine del vertice non parla nessuno, nel presidente Gambacorta, nell'amministratore unico di Irpini Ambiente, Nicola Boccalone, che esce da una porta laterale e driblando i cronisti si allontana in auto.